la paramount la columbia pictures e la universal per la prima volta unite in un unico grande progetto alleveremo lumache piuttosto che produrre questa specie di film questa la risposta di tutti i produttori riguardo la nostra idea di realizzare il film la storia del cinema il film sul cinema che non vedrete mai al cinema la storia del cinema il primo film in cui il cast è talmente ricco che è necessario fare l'appello wayne giovanni son qua presenti edford roberto presente connery shon presente deniro roberto presente darabbia lawrence presente peck gregorio sì sì presente hopkins antonio presente steward james presente stallone silvestro stallone silvestro rambo oh presente oh ci sono anch'io grazie a tutti